bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video video football challenge ragazzi tutti carichi tutti pronti mini hai la palla la palla d'oro ma sappi che oggi te la toglieremo con la 2 touch 2 touch ciao è andato 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 qui abbiamo la 2 touch challenge uno crosserà uno starà in porta e uno tirerà fino a qua ci siamo tutti ok detto ciò ragazzi chi entra in porta per primo yunas chi crossa per primo tu chi tira per primo io auguri yunas che oggi addirittura ha la partita è il suo compleanno ed è venuto a giocare con noi auguri un anno ma c'è un anno frate ma c'è 17 anni a che ora sei nato frate stop tiro si stop tiro vai tiro io per primo e io per primo tu crossi per primo abbiamo abbiamo tre tiri a ciascuno si chi vince prende quella eh non fare come mia sighera rubata no no non faccio niente abbiamo due tocchi questo era buono questo era buono vai questo era buono vai non l'ho toccata eh ragazzi ragazzi ora ci penso io vi faccio vedere come si fanno i tiri vai 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 questo è buono si oh 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 No! No! Leri! Leri! Non prendo un po'! Oh mio! No dai! Parcalini! Questo è per voi Parcalini Parcalina! Andiamo! Parcalini! Ora ce li penso io! Vai! Parcalini! Vittoria! Questo è per te! Pff.... Pfff... Pfff. Ho sc camino! Ragazzi è stato veramente difficile guardatevi sono tutti i stanchi com'è Barcal Com'è? Non è facile come sembra Però adesso faremo altri Tocca a te Mini È il tuo turno Yuna ti crosserà da quella riga E tu dovrai tirare da dietro il puntino Oh Era su terra il Mini Sei pronto Mini? Vai Vai bro Due tocchi hai Oppure tira subito Come vuoi Vai Mini Vai 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 Tiro Fargo Tiro Mau Fra Vatti cinque Vai fai un altro Fai un altro Così così la zittisci Anche mentre lei in porta Fra Non piangere Vai Lu Vai Lu Ma mamma mia S'è arrabbiata Sassa Fra di fargli il gol Così sta zitto Vai 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 Cosa impari a prendere il giro Mio fratellino Non hai capito Forchè Sitto Vieni Forchè Banno Andato 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 L'ho preso in faccia No È morto Sgagli Rompi gli occhiali Prenditi gli occhiali Così impari Così impari a prendere il giro il Mini Nabbo Sono E come stai parlando Con il cielo Batte cinque fra Distrutto Sembra un Nabbo Ragazzi se vi è piaciuto Lasciate un bel Ho vinto io Veri like Mi hai vinto Mi hai vinto io Tre toccie No 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 Ho fatto Tre toccie avete fatto Ho fatto Tre toccie Ho fatto Ho fatto Scrivetevi al canale, se ne vediamo il prossimo video